Fabio Bergomi Incazzatissimo Lui dice che ha le prove Che Di Bala È dell'Inter E vuole un incontro Con Fabio Cordella In live Solo loro due Testuali parole Ma tu dillo pure Noi spettatori Giustamente Mi pare giusto Allora Allora Su Di Bala Sì sì no Su Di Bala La situazione C'è questa Questa apprensione Creata soprattutto All'esterno In realtà Della società L'Inter è stata chiara Col giocatore È stata chiara Con la gente Scusa Ale Adesso hai Lukaku Lautaro Lukaku ancora no Diciamo Diamolo per fare Diamo per fare Diamo per fare Diamo per fare Correa E Sanchez Se non ero E volendo pure Pinamonti ed Esposito E volendo pure Pinamonti e Esposito Che però anche quelli Li do fatti via Volendo di quei cinque Che non mi hanno Giaco potrebbe andare All'USM però Manfred No per entrare Prima di entrare Di Bala Dovrebbe uscire Uno di questi Giusto? Due Allora diciamo Restando alla rosa Del 2021-2022 L'Inter Prima di Di fare entrare Lukaku E Di Bala Ne deve togliere due Togliendo anche Kaiseido Ormai Sappiamo che Comunque non è stato Rinnovato Il presto Quindi Ti ripeto Con il giocatore L'Inter è stata chiarissima Non c'è nessun tipo Di problema Il rapporto come potrei immaginare Tra Marotta Zanetti È diretto Quindi non c'ha bisogno Di tanti giri di parole Non è assolutamente vero Per quello che risulta a me Che Di Bala Non voglia andare all'Inter Anzi Ha già sposato Il progetto Quindi Di Bala vuole Ma è l'Inter Che ancora Deve aspettare qualcosa Il problema Se l'è creato Tra virgolette Passiamo il termine Proprio l'Inter Ma non per un motivo Solo di fare fuori Tra virgolette Per Lukaku Due giocatori No No Nemmeno quello Perché alla fine Come diceva anche giustamente Francesco Dzeko In realtà Ha delle offerte E potrebbe essere Lui il sacrificato Sanchez Andrà via Correa invece Inzaghi Lo vuole tenere Il discorso è stato Un discorso A quanto pare Di commissioni Si deve trovare La quadra Su queste commissioni Con Un In particolare Un intermediario Non Di parte Del giocatore Quindi in realtà Con Antone Di Bala Il discorso Fondamentalmente Si può dire Che è concluso Poi ragazzi Noi le trattative Abbiamo visto esaltare Anche per Per pochi Per pochi Spicci Per questioni di principio Di Bala Sembra che abbia Cambiato La descrizione Non so se qualcuno Me lo può confermare Si 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 10 bianconero 10 bianconero Ed è stata To Eh vabbè Però 2-3 No no Voglio dire che Volevo specificare Che se salta di Bala All'Inter Non salta Perché l'Inter Non riesce a piazzare Uno dei suoi attaccanti Salta per altre Dinamiche Che magari a volte Rimangono Sposte Eh assolutamente Sì Ma non con Non con il giocatore E questo è il discorso Non tra il club E il giocatore O tra il club E Antun Tra il club E un intermediario Che a quanto pare Sta avendo un ruolo Di Più più grande Di quello che L'Inter si aspettava Guarda questi qua Guarda questi qua Di Bala Según Tutto Sport E il delantero Argentino Cioè questi All'estero credono In tutto sport Incredibile comunque No ma Penso che non abbia Neanche tritto Tutto sport Andre non so se Non so se lo sapete Ma l'altro giorno In Martello Ma le stronzate dicono In una notizia in Belgio Citavano il guru Del mercato italiano Damiano Erfaini No Ma mandacelo subito No vogliamo subito Chiamiamo il direttore Vi devo mandare lì Vi devo mandare lì Vi devo mandare lì Mi sono scoperto Ma no ragazzi Vogliamo Sarno Quando arriveremo Anche con Sarno lì È fatto Mi sembra di capire Che Di Bala Si trova davanti A questa situazione Assurda e surreale A cui nessuno avrebbe creduto Fino a qualche settimana fa La Juve Lo ha scaricato Lui è senza squadra Ma nessuno Le ha offerto Un contratto Minimamente Vicino A quello che lui Avrebbe voluto Con la Juve Cioè quindi Lui adesso Si ritroverà Lui adesso Se andrà all'Intero Al Milan Ci andrà a cifre Molto minori Ma in realtà Poi Manfred La Juve Non ha offerto più nulla No però Era una bossa Il problema A second bonus Sarebbe rimasto Pure alla Juve Perché la Juve Poi ha offerto zero No no Non sarebbe rimasto Non è così Il problema è che Il contratto L'accordo c'era Con Di Bala È saltato qualcosa Tra procuratore No però Ma parliamo di Parliamo di Di commissioni Di novembre Di dicembre però Sì 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 No ma già Ma già da prima No dico poi Successivamente Successivamente Poi la Juve Successivamente La Juve La Juve come ha preso Vlovy Ha cambiato Però raga Per farvi capire Per farvi capire Il campionato italiano Di Bala Che noi tutti Credevamo fosse Il talento Maggiore Che c'è in Serie A Il più tecnico Eccetera eccetera A oggi Di Bala Si trova In una condizione Che deve accettare Per forza Uno stipendio Secondo me Massimo Da 5 milioni Ma non so Se gli arriveranno 5 milioni Secondo me Massimo L'Inter L'Inter ha offerto 5 più Uno di bonus E più alto Il terreno Di bonus Di squadra Quindi 5 milioni È quella che si è avvicinato Di più È 5 milioni Che per dirvi È quello che comunque È quello che prende più Al Milan E Teo Che ne prende 4 e mezzo Penso che Se Di Maria venisse La Juve Ne prenderebbe Almeno 8 9 Non lo so Per farvi capire Lukaku Quanti ne verrà a prendere 8 più bonus 8 e mezzo Eh Quindi comunque C'è un altro po' Un altro po' Prende Pellegrini Tanto della Roma Allora so Però non possiamo Non possiamo Cancellare L'ultimo Diciamo L'ultimo Bienio Di Di Pala Che non è stato Di Pala Assolutamente No ma Va via 0 Chiaramente Ma lui ha sbagliato Ale Secondo me Già ad andare A bussare Alla Juve E a dire 7-8 Secondo me Era ovvio Ma 7-8 di che 7-8 Li do a uno Ma in realtà La Juventus Aveva dato l'ok Poi come ha ricontato Anche proprio colpo Non si sono Per tanti motivi Non si è Potuto firmare E poi la Juventus Ha cambiato strategia Sono quelle cose Che succedono Nel calcio Nel senso che Le cose cambiano Anche Di Pala Quando si è Non hanno anche Portato offerte Cioè Di Pala Quando si è seduto In tavola di trattativa Tu in teoria Per avere una posizione Contrattuale forte Gli porti delle offerte Di qualità Antunzi è seduto Al tavola di Juve O senza offerte O addirittura Solo con l'offerta Della Juve E se tu ti presenti Al tavola di Juve E gli dici Sì voglio essere Capitano di questa squadra Voglio fare questo Ti presenti Con l'offerta E l'Inter Grazie Davide Onestamente Io ti dico Ma stai scherzando Cioè Se si presentava Con offerte In Barcellona Real Madrid Manchester O qualcosa del genere Sicuramente Aveva un altro peso Anche a livello Contrattuale E di trattativa Ma il problema Io sono studiato Proprio con questo Sul fatto Che lui non abbia Perdonami Antonello Non abbia Un mercato all'estero Ragazzi scusate Io vi devo salutare Ciao Ale Mi piace Grazie Ale Faccio entrare Nel frattempo Salutiamo Ale Cavasini Punto esclamativo Cavasini Ragazzi seguitelo Faccio entrare Il più grande Esperto Di mercato in Italia Perché adesso Panoramica Su tutto il campionato È Il momento Del Sarno Eccoci Per Sarno Prima di andarci Però dobbiamo Doverosamente Andare anche su Di Maria Perché ieri è successo di tutto Che un conclu di Arrivaci Ma ti stai risultando No vabbè Dici queste cose Dico di là Ragazzi È fattuale quello che ho detto Di Balla attualmente Ha solo l'offerta E l'Inter Se Di Balla Avesse avuto altre offerte Oltre la Juve Bassa tra l'altro Bassa Se avessi avuto altre offerte Oltre la Juve e altre Sarebbe andato anche In un'altra parte Ale No scusa Alea Ce n'è anche una Del Siviglia Che è molto bassa 2-3 milioni Dicono 3 milioni Siviglia Quanto prende Cioè non lo vendi mai Secondo me Per me vale almeno 25-30 milioni Andrea Secondo me Franci Infatti Franci Stanno tutti alla Lazia Stanno tutti alla Lazia Quanti ne ha venduti la Lazia Tutti quelli che Ipervalutano dalla Lazia Stanno alla Lazia Aspetta 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 Ti rispondo Leandro Perché poi Ogni situazione a sé stante Va contestualizzata Milinkovic non è stato venduto Ad esempio Perché comunque È prigioniero Di questa situazione Poi lui Ha espresso sempre La volontà di dire Io me ne vado Ma vorrei andare A Real Madrid Da parte del Real Madrid Non è mai arrivata un'offerta E per quanto concerne Luis Alberto Poi bisogna andare a vedere Anche dove vai a venderlo Perché io sono convinto Che Rispetto alla Liga La Premier League Offrirebbe molti più soldi Ne dico uno a caso Il Newcastle Nuova proprietà Il Newcastle Che ha speso 30 milioni Per giocatori Che non valevano Quelle cifre Penso che li possa spendere Il problema è che Nessuno vuole andare là Per la situazione La proprietà che hanno In realtà Secondo me È un discorso politico Lì Soprattutto anche perché Poi loro sono big Il Newcastle Non è una big Quindi magari Sono giocatori Che vogliono una big Più che altro Ma è sceso il Newcastle No alla fine Si è salvato No Si è salvato Ma forse Possiamo dire anche Che il calcio Sta un po' cambiando Che i due Uno o due milioncini in più Non cambiano neanche più Nelle tasche dei giocatori Visto che comunque Sono iper mega milionari Io capisco il city Ai tempi No magari Offri 15 milioni Andavi al city Perché ne guadagnavi 500 mila Adesso anche Il più scarso Della big Guadagna 2 milioni Cioè il più scarso Di una big Di base guadagna 2 milioni Quindi il big Quindi il big Prende 6-7 milioni Non gli cambia A livello di vita 1-2 milioni in più Soprattutto Che sai che hai Un contratto Di 5 anni Sarebbero 5 milioni Di questa cosa Va Ha fatto questa scelta Qui Semplicemente Secondo me Sta cambiando Poi il mood Vediamo anche Quelli del Milan Si è fatto gestire Da un incompetente Avesse avuto La scuderia di Raio La dietro Probabilmente A quest'ora Saremo in via di definizione Su determinate situazioni Si è fatto gestire Da cani Alla Juve A quanto pare Ogni volta Che si sedeva Il suo procuratore Con la Juventus A parlare Fatto tutto Trovato l'accordo L'intesa col giocatore Il procuratore Chiedeva sempre La commissione Di 15 milioni Alla firma E la Juventus Forse la facciate Ancora Sì ma ragazzi Però voi Questo che blocca Anche Quello è il gioco Delle parti Antonello Mi stupisce Lo stavo dicendo prima E non sono riuscito A dirlo Che un giocatore Come lui Perché tralasciando L'ultimo biennio Che è stato Tutti non riusciamo È comunque Un giocatore importante Non abbia mercato All'estero Perché poi Diceva giustamente Bene Leandro L'unica offerta vera È arrivata da parte Dell'Inter C'è stato Quello pseudo interessamento Da parte della Roma Ma all'estero Zero Si è vociferato Tottenham Occhio al Milan Che l'ha detto Cordella Occhio al Milan Cordella Conta avere anche Conta avere la forza Anche Del procuratore Che va là Si sbatte Ti cerca le situazioni Ma basta vedere Antone Che è andato in Inse dell'Inter Nel momento in cui Tu pensi dell'Inter Il potere contrattore Diventa tutto in Marotta Cioè in pratica Antone si è fatto In un certo senso Prendere in giro A Marotta Perché nel momento In cui tu vai Inse dell'Inter E hai sotto solo Dybala Due giorni dopo Dybala deve essere ufficiale Cioè non è sì È come la pimenta Adesso che è andata A parlare con la Juve Ufficialmente Pobba sai che è fatto Dybala ancora Se ci sono questi dubbi Che traprerono anche Tre big Sanno Legga che dopo Ok Ok chiaro Su Di Maria L'abbiamo già detto Dai Di Maria C'è Albanese Che l'ha detto Albanese Ieri sera uscita Svolta nel mercato Juve Nessun progresso Si abbandona la pista Di Maria Ma brava la Juve Che finalmente Ha tirato fuori i coglioni Minchia sto fenomeno Del cazzo Ma va a fa cura Allora La Juve magari è stata brava A tirare fuori i coglioni Beh ma non è così raga Però eh Ah no Ah no Ci racconti No non è così Perché io dopo Due minuti Tutto l'articolo Ho letto Magari Lello Correggimi tu In teoria Si parla di una riva Che si tira fuori Nel senso che Non segue più Solo la pista di Maria Come se fosse Stesse venerando Si capisce che la Juventus Adesso va forte Anche sugli altri obiettivi Sono stati citati Zaniolo È stato citato Berardi E di Maria Se sarà Sarà un'opportunità Di mercato Prima era l'obiettivo Unico Adesso la Juve in un certo senso Si è rotta le scatole Da quel punto di vista lì Però aspettiamo Fine settimana Perché tanti avevano detto Fine settimana Albanese e Gazette Avevano detto Metà settimana Eh raga ma Però Juventini Ma come stai Con quegli occhiali Da dietro No sono di file Non posso utilizzare Ah non puoi Non vuoi che si incazza No no Non posso Non posso Ma ho capito Però se ce l'han detto Perché è una cosa vostra Tipo Un easter egg Del canale Ah sì C'è Filippo Trapp Beh ogni tanto Lui fa Anche vedi Quel cappellino verde Fatti come balla Col cappellino Eh fatti come Manfredi Fatti come Manfredi Tutte copie Tutte copie Senti ma No No i Juventini Però Rendetevi conto Di una cosa Ma scusami Scusami Leo Rispetta che è arrivato Ma non sa neanche Come si accende una live Leo ma facciamo una sfida Scusa Facciamo Tra i due trapper Scusa Vai 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 Organizziamo Oggi ho abbandonato Il freestyle Ma per quello lo faccio Però raga Qui la Juve Si trova davanti Situazione Che Sono i 50 Ma potevamo far 20 minuti Con Sarno Con calma Allora io me ne vado Qui c'è Qui c'è Dove vai che piove Dove vai che piove No qua c'è Un sole della madonna Qui c'è colpo Una Juve Che ha bisogno Di un cristiano Che senza Escluso dal gioco Si inventa la giocata E mette la palla Sul piede di Vlaovic Perché se no Siete inguagliati E quindi Se non è di Maria Chi è? E cioè Non Berardi Non Berardi Sicuramente Almeno per quanto Mi riguarda Anche se per caratteristiche Se tu vai a fare Una valutazione Puramente statistiche Di numeri Probabilmente Quello ideale Ma non è quel giocatore Io mi aspetto Altri nomi Dalla Juve Francamente Nomi che magari Usciranno a breve Che non sono ancora usciti Non mi aspetto Un livellamento Verso il basso Ecco Neymar Oggi ho letto Che l'hanno proposto Addirittura Anche al Barcellona 50 milioni Non sa dove cazzo Mandarlo Neymar Praticamente Se lo stanno sbolognando Perché in questo momento C'è un'indagine Oh Francesco 50 milioni Neymar Tu ne vuoi 25 Per Luiz Alberto Sì sarebbero 70 Poi perché Un 55 più 15 E però Vabbè però Secondo me No ma ho spiegato Prima Io ho specificato Ne vorrei Vorrei quei soldi lì Da una squadra Come il Newcastle Perché tra le altre cose So che in passato L'avevano anche cercato E tra le altre cose Il Newcastle 30 milioni Li ha spesi per Chris Wood Che non è proprio Questo fenomeno Quindi di conseguenza Eh vabbè ma non puoi fare Secondo me Cioè a volte uno sbaglia Noi che puoi dire Li hai spesi per quello Spendemeli anche Se uno sbaglia Ma ce li hanno da spendere Ce li hanno da spendere Perché devono costruire Una squadra Strutturalmente Con giocatori importanti Perché adesso Chi ti viene in mente Di famosissimo Ney McPies Infatti stanno cercando Stanno cercando Sì ma solo lui Che viene da Chi ti viene in mente Te l'ha detto Però Non vale È un discorso sbagliato Stanno cercando Giocatori Non i fenomeni Alla Neymar Ma i giocatori Importanti In ascesa O quelli Fattibili Già di esperienza La luce alberto O i botman Della situazione Ma non Dimarege Sì Bruno Dimarege Però sono mai sbagliato Il discorso di Vitale Sembra un po' Quegli spennaturisti Che ci sono Nelle località Che arriva la gente Che c'è i soldi E io li spenno C'è Sono me il mercato Ultimamente Ci vanno molto più cauti Negli investimenti Anche lo stesso PSG Ma no Ma sei smentito dai fatti Si hai smettito Stop stop Sarno 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 Guarda su Di Maria Comunque che è stata Lasciata al cento per cento La pista A me non l'hanno detto Dicono che comunque Tarda ad arrivare la proposta E comunque la Juve normale Che sta Virando su altri obiettivi Fatto sta Che in questo momento Anche quando ho chiesto Conferme su Berardi Mi hanno detto di no Mi hanno detto In questo momento Berardi è visto Come un piano C Quindi la Juve Anche se nel caso In cui non prendesse Di Maria Andrebbe su un altro Su un altro esterno In questo momento Berardi non è considerato L'alternativa Ok Ok Chiaro Allora io direi Io direi Chiudiamo con la Juve E iniziate a fare Tutte le domande Salutiamo Colpo Vitale Leandro Se non avete delle domande Sulla Juve Raga Non vi vogliamo tenere occupati Leandro Mi raccomando Che vi voglio la sfida Con Filippo